Buongiorno, sono Ivana Jernic, presidente di Fiavet nazionale. Siamo qui per confermare il grande valore che ha il mondo dell'intermediazione turistica all'interno del sistema complesso del turismo organizzato in Italia, mondo delle agenzie di viaggio e tour operator fondamentali per l'economia turistica del nostro paese. Le agenzie oggi più che mai hanno un ruolo importantissimo e sono al centro della ripresa. La consulenza e il valore dei professionisti sarà ancora più importante per il consumatore del domani e noi siamo qui per testimoniare questa ripresa, questa grande volontà di ricominciare a lavorare perché gli italiani, ma non solo i cittadini di tutto il mondo non vedono l'ora di poter tornare finalmente a viaggiare.